10 febbraio 1986 Si apre il maxiprocesso a Cosa Nostra 475 persone sono state rinviate a giudizio L'istruttoria è contenuta in 40 volumi, 8000 pagine La condotta è il pool antimafia Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello Per la prima volta Centinaia di imputati sono chiamati a rispondere dell'esistenza di un'organizzazione mafiosa Monolitica e verticistica Per celebrare il processo è stata costruita in soli nove mesi un'aula bunker All'interno del carcere del Lucerdone di Palermo 20 anni dopo Alfonso Giordano, Presidente della Corte Piero Grasso, Giudice all'Atere Giuseppe Aiala, Pubblico Ministero Per la prima volta Tornano insieme in quell'aula Aiala, Pubblico Ministero Aiala, Pubblico Ministero La Corte La Corte Veramente un'opera eccezionale per quei tempi Signor Abbate Giovanni è difeso dal professore Franco Coppi del Foro di Roma e dall'avvocato Sergio Monaco del Foro di Palermo Ricordo che entrando in quest'aula con questo schieramento di detenuti mafiosi anche di alto rango Un numero impressionante di avvocati Mass media da tutto il mondo Mi tremarono un po' le gambe perché non confessarono Vi ricordo il fatto che sono arrivata alle 5 del mattino Perché immaginavo che ci sarebbe stata una grande ressa per entrare perché ciascun giornalista doveva essere perquisito, identificato C'era una macchina fotografica che ti fotografava da dietro il vetro prima che tu entrassi Dopodiché si dovevano fare le fotocopie del documento del tesserino professionale Dopodiché si passava attraverso un metal detector Tutti temevamo un attacco della mafia C'era addirittura chi temeva un attacco aereo Trovarsi in una arena così vasta, così popolata Dove si creavano tensioni significative Sia dal punto di vista proprio strettamente materiale, non c'era dove sedersi E Gallina Montana sostituiti dal vocato Natoli C'erano varie palermo, c'era quella degli studenti C'era la palermo di quelli, sta mafia dal lavoro quindi perché dobbiamo andare a toccare E poi c'era una palermo, come dire, la borghesia palermitana Che non si schierava, assisteva a questo processo senza fare il tifo E poi c'era invece chi ci andava per controllare gli altri Cioè c'era una serie di sentinelle della mafia E poi c'era una serie di sentinelle della mafia